Ben trovati nell'angolo dello sport. Abbiamo detto sempre come l'alimentazione sia una cosa estremamente importante per i calciatori, tant'è vero che gli allenatori di oggi fanno molta attenzione, molta cura all'alimentazione. La carne è una fonte proteica ad alto valore biologico, la carne è un alimento di primaria importanza nell'alimentazione di sportivi in generale, ma anche dei bambini, dei ragazzi, delle donne soprattutto quelle in gravidanza. Saper mangiare la carne ma saperla cuocere sono momenti importanti. Vi dicevo delle squadre di calcio che puntano molto sul tipo di carne. A Pescara abbiamo la macelleria dei fratelli Norsha, una SAS, a Pescara in via Arapietra 67, telefono 085 422 4153. Le migliori carni dai fratelli Norsha a Pescara in via Arapietra. Un affettuoso abbraccio a voi tutti, come sempre da Gianni Lussoso, appuntamento alle prossime edizioni di TVQ Sport.